Ha dell'inverosimile quanto accaduto ieri a Modica nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Contrada Crocevia. Durante le celebrazioni della Santa Messa di Esequi di un parrocchiano, al momento della raccolta delle offerte, il parroco si è rivolto ai fedeli invitandoli. Non mettete soldi a centesimi perché il Signore non li accetta. Al termine della raccolta delle offerte, consegnatevi dell'altare Don Mario, questo è il nome del parroco, trovando una moneta in centesimi, rivolgendosi ai fedeli, dice «Volete sfidarmi?» Ed ecco che attraversa la navata della Chiesa, oltrepassa il feretro e getta la moneta fuori dal portone principale. Neanche a dirsi le reazioni dei presenti sconcertati ed increduli, molti di essi hanno abbandonato la funzione religiosa, mentre altri hanno atteso la fine della Messa per apostrofare con parole molto pesanti il prelato. La signora, una persona anziana che aveva offerto la monetina macchiandosi di questo peccato, è scoppiata in lacrime alimentando ancora di più la polemica e il malcontento in Chiesa. La notizia di quanto è accaduto si è subito diffusa in città, creando un certo imbarazzo tra gli ambienti religiosi. Abbiamo sentito il Vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Antonio Stagliano, che ci ha dichiarato che l'episodio è disdicevole e che già stamattina ha convocato il parroco insieme a un gruppo di parrocchiani del Comitato della Chiesa. È persino intervenuto con un post su Facebook il presidente del Comitato della Festa del Cuore Immacolato di Maria, Peppe Minardi. Non avrei mai voluto scrivere questo post, dichiara, ma dopo quello che è successo oggi nella mia parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in occasione di una cerimonia funebre, mi sento il dovere come presidente del Comitato della Festa e come membro degli affari economici di questa parrocchia nel prendere le dovute distanze dalla gesta quanto offensivo e pretestuoso del nostro parroco. Per me il senso cristiano va oltre l'arroganza e la maleducazione. Un pastore deve essere umile e servizievole e guidare le proprie gregge verso il giusto cammino. Questi sono esempi sbagliati da non prendere in considerazione. Mi scuso a nome di tutte le comunità per il disdegno provato da tutti i presenti e mi scuso con la famiglia della defunta che sicuramente non meritava un simile gesto per il suo percorso di vita fatto di amore e di lealtà. Con amarezza e rabbia chiedo perdono a Dio se le mie parole possono ferire qualcuno.